Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme una torta con uva, crema pasticcera, ricotta e pasta biscotto. Iniziamo la preparazione per pasta biscotto. Usiamo 4 uva interi. 150 g di zucchero bianco. Mettiamo 160 g di farina 00 e una bustina di levito per i dolci. Usiamo una teglia da forno per cuocere la pasta biscotto con la carta sotto. Grazie a tutti. Mettiamo a cuocere la pasta biscotto nel forno a 170 gradi, forno ventilato. Pasta biscotto è pronto, l'ho lasciato nel forno per 6 minuti. Prepariamo la crema pasticcera. Mettiamo 500 ml di latte intero. Mettiamo un po' di scorza di limone. Mettiamo a scaldare il latte sul fuoco. In una ciotola mettiamo 100 g di zucchero bianco, 4 torli di uovo e 45 g di amido di mais. Mettiamo. 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 Mettiamo un mezzo cucchiaino di strato di vaniglia. Teriamo via la pellicina e la scorza di limone. e adesso aggiungiamo il latte ai tuorli e mettiamo tutto sul fuoco la crema è pronta e adesso la lasciamo raffreddare adesso che la crema è fredda aggiungiamo 300 g di ricotta bacina e 250 grammi di mascarpone 20 grammi di zucchero bianco e 2 cucchiai di farina 00 0 Grazie a tutti. Prepariamo due dischi di pan di spagna di misura a 21 cm. Usiamo un stampo di 24 cm con la carta forno dentro. Mettiamo un disco di pasta biscotto sotto e adesso aggiungiamo la crema. Mettiamo un ufa mista senza semi. Mettiamo un po' di spagna. Mettiamo un po' di spagna. Mettiamo un secondo strato di pasta biscotto. E adesso la crema. Ecco qua, pronta. Adesso andiamo a infornarla. Mettiamo a cuocere la torta nel forno preriscaldato a 170 gradi in forno ventilato. Mettiamo un po' di spagna. Mettiamo un po' di spagna sopra la torta. Mettiamo un po' di spagna. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti